Ciao a tutti ragazzi, come va? Spero stiate bene, in compagnia di, scusate profondo ma ho fatto il video in salotto per cambiare, in compagnia di più vuoto, no scherzo dai, di questa bella bustina dai, in compagnia di questa bella bustina, scusate ragazzi se non sono in natura ma purtroppo con mio padre non sto andando più al lago e non posso fare questi video in natura, peccato, proprio dai li apri in casa, abbiamo questa bustina di destini incrociati, in realtà ne ho due, però ragazzi voglio fare una cosa, se in questo sarà difficile ma se trovo una ex questo decido se venderlo o no, tanto non è una serie che mi piace moltissimo ma però c'è una carta in particolare che mi piace, cioè Kindra Full Art, ma è possibile trovare le carte che vuoi, però vabbè si tentano ragazzi, come ex non mi piace molto, dai che li apriamo invece che a parlare, sono già un minuto, non mi piace di apriamo più per forza, e ragazzi se non trovo niente ne metterò ancora uno, però ragazzi li sto prendo, perché so già che se in questi due non trovo niente, l'ha ex l'ho lasciata in quelle di, qual è loro vado a prenderla no? perché mi è già capitato e so già che li capiterà, c'è già una full art l'ho trovata in questo set, devo caricare ancora il video ragazzi, scusate in ritardo, ho trovato una full art carina quindi già mi posso tenere soddisfatta però ho voluto provare ancora due pacchetti perché così ragazzi, dai per non so, per portare un'apertura qua la bustina con Delphox qua c'è il bigliettino con Megal Kazam che non mi piace molto ragazzi perché sembra non so, meglio la Kazam normale bene apriamo allora vi dico già fare una tattica che tocco la rara, se sento che è liscia la lascio giù e vedo sempre il secondo prima oppure il secondo lo vedo no l'ho aperto male il pacchetto cioè volevo salvarlo ma non riesco era così bello questo pacchetto di natura forse riesco a scavare da qua no dai, solo per salvarlo se è rotto scusate ragazzi a poi lasciamo si è distrutto va va, si è distrutto c'è ragazzi di tre minuti c'è proprio una bustina mi tocca distruggere ragazzi prevedo trovo una olografica magari anche una rara ecco la bustina no no perché è bello a kinder mica proprio lui codice che non so inizia con la k magari mi fa trovare kinder no scherzo allora facciamo one two ritocchiamo no si è una ex perché è liscia eh ragazzi si credo che sia si si è liscia bobo guarda una gioccata ragazzi però non voglio girare lo so che sarà udino che mi fa schifo no giriamo facciamola lì guardiamo le nostre carte sì ragazzi so che abbiamo bello potere della memoria ma non so che l'ex sono azzeccata legami al mentale con udino che schifo no perché non ho trovato Wigglytuff Berling guarda che è questo bronzo buona merda scusate ragazzi bronzo Riolu che ha già lei Wigglytuff ma c'è non è meo è la reverse eh vabbè coughing era la nuve già non è brutta è brutta che ha già lei vero sì mega la kazam ecco questo la voglio meno male che non è mega udino che fa schifo grazie dio è un doppio può fa schifo eh ragazzi è la cosa brutta che c'era già mia mia sorella dai vabbè un utente ha detto che la volea ma che posso anche fare una cosa perché ha detto che la volea non lo so vedo sì ragazzi preferivo preferivo Kindrat anzi lo preferivo fu la scuola di più bello ma vabbè meglio che niente ragazzi no no ma meglio questo che ha udino udino proprio proprio fa schifo meno male che ho trovato questo quindi ragazzi ci vediamo al prossimo video e un saluto da gay poche fanatica da questo al kazan bellissimo bello ciao a tutti